Oggetto numero 13, risponde alla sessione Fioroni, interroga il Consigliere Fora, urgenti problemi, start-up e imprese costituitesi nell'anno 2019. Parola al Consigliere Fora. Buongiorno a tutti, buongiorno all'assessore Fioroni. L'interrogazione ovviamente parte dal contesto economico attuale, dalla crisi che sta vivendo il nostro Paese, dagli interventi che la Regione sta mettendo in campo per favorire il sostegno al sistema economico e produttivo locale. Partendo da questa considerazione, da questa situazione, vi do solo un dato. In Umbria nel 2019 sono nate 21.000 nuove imprese, registrate alle due Camere di Commercio di Perugia e di Terni. È uno dei dati contestualizzati al numero totale delle imprese in Umbria più alti d'Italia. Segno che, evidentemente, nonostante la situazione economica e produttiva locale, anche pre-Covid, c'è un fermento di vitalità imprenditoriale di cui dobbiamo tener conto. Tra le misure che ha emanato questo Governo regionale per il sostegno al sistema produttivo, l'unico che possiamo prendere come riferimento per questo target d'impresa è il bando Restart. Il bando Restart ha il netto delle poche risorse rispetto a quelle che, noto, sono state richieste e che sono state messe a bando e che, eventualmente, la Giunta, non so se valuterà se aggiungere anche in relazione alla riprogrammazione che oggi viene presentata in Consiglio dei fondi strutturali, dicevo che il bando Restart non agevola il sostegno alle start-up nate nel 2019. E questo per un motivo abbastanza banale, e cioè legato al fatto che anche per le imprese nate nel 2019 l'unico parametro di riferimento è legato alla misurazione sul fatturato. E' chiaro che il fatturato 2019 di imprese nate nel 2019 è evidente che non favorisce il finanziamento di queste imprese. Evidenzio un dato, e cioè che la Giunta ha atteso, come dire, per mesi che fossero emanate le linee del Governo per poi procedere ad integrare quelle aree di bisogno che venivano lasciate scoperte dagli interventi del Governo. E purtroppo in questo caso registro che le misure economiche regionali sono state di fatto emanate in termini quasi se non uguali, e cioè con decreti e misure che sono fotocopia delle misure nazionali. Lo stesso bando Restart è esattamente uguale all'intervento che il Governo nazionale ha individuato per questo target di imprese. E' evidente che, come dire, mostra gli stessi limiti di quelle misure legate in particolare a questo target. Dicevo che stiamo parlando di 21.000 imprese, in molti casi formate da giovani, giovani a cui abbiamo detto per anni che dovevano affidare il loro futuro non più al lavoro dipendente, alla ricerca del posto fisso, ma la intrapresa, la voglia di fare impresa. Ecco, questi giovani l'hanno fatto, questi giovani ci hanno messo competenze, molti di questi giovani hanno scelto di rimanere in Umbria quando potevano andarsene e fare impresa altrove, dove in effetti le condizioni spesso sono più agevoli, hanno scelto di rimanere, ci hanno investito e rischiamo che conteremo tra, purtroppo, i morti economici di questo tempo anche loro. Noi abbiamo un segmento che è le imprese nate prima del 19 e le eventuali misure per lo start-up che si favoriranno, non so se questa regione ci intenderebbe investire, a partire dal 2020. Poi c'è questo segmento che è in un limbo che non viene preso in considerazione. Alla luce di queste motivazioni la richiesta è quali sono gli interventi che la Giunta intende adottare per sostenere questo tipo di imprese. Grazie consigliere. La risposta è dall'assessore Fioroni. Sì, diciamo che i temi che ha posto nella sua interrogazione il consigliere Fora sono molteplici e sicuramente i tre minuti sono un confine troppo ristretto per dare una risposta. Allora, primo tema delle start-up, se questa amministrazione ci crede, sono centrali in una visione di sviluppo di questa regione nell'ambito di una strategia di riposizionamento e specializzazione che è necessaria, perché la parola generica start-up poco dice, non a caso i numeri a cui lei fa riferimento sono numeri generici che mettono dentro la parola start-up ogni attività di impresa, il tema rilevante è che le start-up sono un motore soprattutto nel momento in cui sono start-up di natura innovativa. Su questo noi abbiamo già avviato un fondo dei fondi, un fondo equiti quasi equiti per un valore di 6 milioni e mezzo di euro, rivolto proprio a sostegno delle start-up innovative, di spin-off accademici per sostenere tutto quel processo che riguarda l'accelerazione e l'incubazione dell'impresa, fermo restando che parlare di start-up non vuol dire solo mettere a disposizione risorse, ma vuol dire anche aiutare alla costruzione di un ecosistema di supporto alle start-up, perché se noi non siamo in grado di sostenere le start-up cercando di favorire l'avvicinamento dei capitali al mondo dell'idea, di favorire i progetti di brevettazione, di favorire i processi di prototipazione che sono quelli, è difficile sostenere le start-up. Relativamente a questa visione futura ricordiamo che è stata aumentata la dotazione finanziaria dell'azione 1.31, proprio quella relativa alle start-up di ulteriori 3.500.000 euro e quindi da un punto di vista di dotazioni finanziarie, escludendo la nuova programmazione su cui chiaramente avranno un ruolo rilevante, questi fondi saranno a disposizione. Mi permetta di osservare che le misure non sono speculari a quelle del Governo, anzi, sono state misure volutamente complementari. Il fondo Restart prevede, non a caso, abbiamo cercato di identificare strumenti di natura finanziaria che avessero anche capacità di indirizzo di politica industriale. Faccio ad esempio riferimento alle misure di patrimonializzazione in cui oggi noi cerchiamo di privilegiare ad esempio l'attività di reshoring, di integrazione della filiera. Quindi anche su quello che riguarda la possibilità di convertire parte del Restart sul fondo perduto, anche questa è una misura che non trova nella stessa entità, nelle misure governative, un corrispondente, al punto tale che la misura è stata anche copiata da altre regioni. Il tema delle start up, lo assicuro, è un tema centrale in questa amministrazione, è un tema che sa anche, conosce bene la mia storia su questo settore, quindi io ritengo che non si possa però prescindere da una nuova strategia di specializzazione economica del territorio. Le start up nascono, si generano e sviluppano laddove ci sia un ecosistema che ha fatto di finanza, che ha fatto di connessione nel sapere, che ha fatto di aziende che trovino nel sistema degli start up idee da implementare, quindi aziende giovani che si affiancano ad aziende esperte. Questo significa creare anche luoghi, spazi nel territorio in cui si possano incontrare questi elementi. Assessore, scusi il tempo. E con una centralità in tutto questo del sistema della ricerca e dell'università. Una replica molto veloce. Grazie Assessore. È molto bello, come dire, il ragionamento sulle start up. Purtroppo però non mi ha risposto, perché ci sono 21.000 imprese nate nel 2019 che sono escluse dagli interventi economici dei bandi attuali della regione. I 3 milioni di euro che lei ha presentato rispetto alla riprogrammazione serviranno per finanziare nuove start up. Io chiedo che, piuttosto che continuare, oltre che ovviamente intervento dovuto, quello di lavorare a finanziarne di nuove, però sosteniamo anche quelle che altrimenti, mentre ne nascono di nuove, facciamo morire quelle vecchie. Sono 21.000 imprese che stanno soffrendo, ovviamente per motivi noti. Quindi chiedo che, se riprogrammate il bando restart in una seconda edizione, quantomeno si corregga quel parametro. Andiamo avanti. Oggetto numero 14. Risponde l'Assessore Coletto. Interroga il Consigliere De Luca. Ritardo nell'intervento dei mezzi di soccorso del servizio emergenza-urgenza. Ruolo della centrale operativa del 118. Parola al Consigliere De Luca. Grazie, Presidente. Questo è un argomento che purtroppo riguarda tutti quanti e su cui la cui importanza è legata a tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto nel corso di questi mesi e non ultima la vicenda che è stata raccontata all'interno di alcuni articoli relativa a una di 82 anni che si è fratturata il bacino cadendo in pieno centro nel comune di Terni ed è stata, ha visto l'intervento del 118 con un ritardo di ben 45 minuti. Questa situazione nasce oltretutto questa interrogazione dopo una richiesta di accesso agli atti che abbiamo presentato negli scorsi mesi in cui dettagliatamente abbiamo avuto modo di poter vedere come sia un problema diffuso in gran parte del territorio regionale e quindi come i tempi di intervento che sono normati e previsti dal DPR del 27 marzo 1992 e che definiscono come il tempo di intervento nell'ambito dell'area urbana deve essere di 8 minuti e nell'ambito dell'area extraurbana almeno nel 90% dei casi deve essere diciamo non superiore ai 20 minuti. in una situazione che in determinate aree del territorio diventa drammatica oggettivamente e esponenziale come nel caso della media valle del Tevere, come nel caso di vaste zone del Ternano, non ultima l'area di Avigliano, di Amelia, di Guardea e in particolar modo la Valnerina con una situazione che oltretutto si incrocia con la mancanza di una copertura sufficiente di presidi quindi nell'arco della giornata abbiamo diversi presidi H12, abbiamo diversi presidi che oltretutto non riescono a collimare con la presenza di una sorveglianza medica nel territorio perché spesso nel fine settimana manca anche la presenza della guardia medica. Quindi di fronte a questa situazione comprovata da dati e documenti noi abbiamo presentato questa interrogazione per chiedere alla Giunta se abbia riscontro dei dati espressi in premessa e in caso contrario quali siano le proiezioni e le elaborazioni fatte dagli uffici regionali, se ritiene la necessità di potenziare il sistema del soccorso in emergenza nell'intero territorio regionale e se intenda rivedere il sistema della centrale unica e capire quindi questa è un'informazione che noi chiediamo se l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi delle linee guida può pregiudicare l'aggiungimento dei livelli essenziali di assistenza con ripercussioni sulle ripartizioni del fondo sanitario. Grazie consigliere De Luca, do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie Presidente. In relazione all'evento di Terni del 25 maggio relativo al soccorso in confronti di una signora anziana caduta accidentalmente a Terni, esitate in frattura di femore bacino, soccorsa dal mezzo della centrale operativa 118 con un ritardo di circa 45 minuti. Si relaziona a quanto segue. Alle ore 11 del 26 maggio perveniva in centrale operativa la chiamata di soccorso per una donna anziana caduta a Terni con sospetta frattura del femore. Nella fascia oraria relativa a questo evento, come risulta dal sistema informatico della centrale operativa, tutte le ambulanze della zona erano già impegnate in soccorso di altrettanti casi urgenti ed in particolare l'ambulanza 652 di Terni a Quasparti impegnate in codice rosso a seguire con un ulteriore codice giallo, la Terni 642 di Amelia impegnate in codice giallo, la Terni 643 di Terni impegnate in codice rosso, la Terni 651 di Terni impegnate in codice rosso, la 644 di Avignani impegnate in codice giallo, la 645 di Narni impegnate in codice rosso, la Terni 653 di Ferentillo impegnate in codice rosso e a seguire in codice giallo. L'unica ambulanza residua con medico a bordo era rappresentata la Terni 645 di Narni che sarebbe dovuta intervenire quindi in caso di patologia tempo dipendente codice rosso, in quanto rimasta l'unica disponibile in tutta l'area del Ternano. Per tale motivo l'operatore decideva di fare intervenire in soccorso della signora anziana l'ambulanza di Todi trattandosi di trauma dell'arto inferiore e quindi di patologia non tempo dipendente. A conferma di quanto sopra proprio l'ambulanza medicalizzata in Narni interveniva alle ore 11.25, cioè 15 minuti dopo l'intervento dell'anziana signora di Terni in codice rosso a Terni per dolore toracico di verosimile natura cardiogena. Da quanto sopra si evidenzia una situazione caratterizzata da numerosi codici di gravità maggiore accaduti in una ristretta fascia oraria che avevano impegnato tutte le ambulanze disponibili sul territorio. La scelta di utilizzare l'ambulanza più vicina, quella di Todi, ha peraltro allungato i tempi di soccorso, cosa di cui siamo profondamente e veramente dispiaciuti, anche se consapevoli, di aver fatto una scelta per priorità. Tutta la documentazione si trova in originale presso la centrale operativa 118 a completa disposizione. Per quanto concerne i tempi medi di intervento delle ambulanze, riporto la tabella inviata in dato odierna dal software house beta 80, su mia richiesta relativa alle varie postazioni della regione con un range di tempo medio in codice rosso tra chiamata e arrivo sul posto dell'evento che va tra i 7 e i 19 minuti. Faccio presente che i criteri e gli standard del sistema 118 elaborati o società scientifiche SIS 118 riportano testualmente che la percentuale di interventi nei codici rossi entro i tempi ritenuti ottimali per trattare un soggetto in una situazione di compromissione in atto o di rischio di compromissione imminente nelle funzioni vitali maggiore del 75% entro 8 minuti in area prevalentemente urbana, entro 15 minuti in area intermedia e 20 minuti in area prevalentemente rurale. Allo scopo di migliorare ulteriormente questi dati per fornire un servizio potenziato in considerazione del progressivo aumento degli interventi nel corso degli anni, sono stati elaborati alcuni piani di aumento di mezzi in alcune zone, potenziamento del servizio di area soccorso e soprattutto ampia diffusione di automediche che permettono di svincolare la figura del medico dall'ambulanza che può pertanto operare in modo più flessibile ma anche per varie vicende sono stati realizzati solo in parte. Anticipo che giovedì 11 giugno ci sarà un incontro con la direzione sanitaria dell'US2 per riprendere tali progetti. Per quanto riguarda invece il questionario relativo all'edempimento IVEA che valuta le regioni anche tramite indicatori desunti dei flussi informativi dell'emergenza urgenza naturalmente alla valutazione per il 2018 l'ultima disponibile l'Umbria è stata dichiarata ad empiente. E' chiaro che questa situazione è una situazione che viene da lontano che deve essere ben valutata o meglio rivalutata e adeguata a quelle che sono le esigenze odierne. Ripeto, siamo ulteriormente dispiaciuti per l'evento che è accaduto ma come è stato ampiamente dimostrato e come è verificabile presso la centrale 118 purtroppo si sono accavallati una serie di codici rossi e di codici gialli in maniera piuttosto importante durante quel momento. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Consigliere De Luca. Assessore, io prendo atto che lei non ha capito bene qual è il problema. Orvieto, il 51% degli interventi è superiore ai 20 minuti. Pantalla, 48,14% è superiore ai 20 minuti. 42,86% nel caso di Avigliano, 39% nel caso di Amelia, 42% nel caso di Guardea. Parliamo di numeri che sono superiori di gran lunga rispetto a una media regionale che non può essere in alcun modo rappresentativa della criticità che abbiamo in queste zone perché è ovvio che nei territori serviti, diciamo, nelle grandi città questo paragone su grandi distanze non può essere rappresentato. Prendo atto che nella giornata di ieri e nella giornata dell'altro ieri è stato deciso di smantellare la presenza H24 nella media valle del Tevere quindi si ritorna nella fase pre-covid di fronte a questi numeri, a questi qua in una copertura a metà. se noi non capiamo che questa è una situazione di assoluta priorità e quindi che deve essere messa al primo posto dell'agenda politica non abbiamo ben capito che non è la questione relativa all'evento della rottura del femore della signora Anziana che ci può dispiacere, comprendo benissimo la sua situazione ma dovrebbe farci dispiacere tutti gli eventi, a prescindere dalla varie tipologie di codici che in questo momento vedono, ripeto, interventi che sono ben oltre, superiori ai 20 minuti Ferentillo 34,56, oltretutto la Valmerina Ternana ha una copertura anche in questo caso H12 nell'ultima situazione, concludo, lo abbiamo visto, anche negli eventi degli ultimi giorni in Valmerina c'è una copertura ancora più ristretta e lo sa bene il mio collega Vincenzo Biancone Grazie consigliere De Luca, adesso abbiamo l'ultima question time interroga il consigliere Paparelli o Bori Bori, risponde l'assessore Coletto, piano e regionale per l'anno un'autosufficienza la parola al consigliere Bori Grazie Presidente, aspettiamo con preoccupazione la rielaborazione del piano per la non autosufficienza l'aspettiamo con preoccupazione perché per noi il tema delle disabilità può essere affrontato in un solo modo mettendo in campo tutti gli strumenti per rimuovere gli ostacoli questo è l'unico modo di affrontare la disabilità pensando al concetto di vita indipendente sancito in Italia ma anche dall'ONU in tutto il mondo di inclusione nella società e per questo bisogna avere appunto un progetto di vita condiviso che tocca la persona con disabilità la propria famiglia che può essere di ogni stato sociale e di ogni censo deve poter affrontare le difficoltà nello stesso modo e tocca le strutture pubbliche, gli operatori, le realtà che operano sia nel pubblico che nel privato a servizio pubblico. Questo è il modo in cui noi vorremmo che fossero affrontate le disabilità e quindi la base da cui si parte per pensare il piano regionale integrato per la non autosufficienza in realtà noi vediamo che dalle dichiarazioni emerse in questi giorni il quadro è ben diverso ad oggi le uniche valutazioni che sono state espresse dall'assessore riguarda l'utilizzo del criterio ISEE ai fini dell'attribuzione dei fondi Prina in particolare ci sono delle soglie 5.000 euro di ISEE che non possono corrispondere alla realtà ma chiunque di noi se ne rende conto è una scelta di intervento che esclude il budget di progetto e voucherizza, monetizza la prestazione al contrario di un progetto che è un intervento socio-sanitario integrato programmato su esigenze purtroppo complesse e che partono dall'individuo, la sua famiglia e i servizi da offrire a loro questa privatizzazione del modello e de-responsabilizzazione del pubblico ci preoccupa e per questo, sottolineando il fatto che è mancato qualunque tipo di processo partecipativo ci risulta che sia in essere la modifica dei criteri di accesso e di attribuzione per questo siamo qui a fare un'interrogazione per avere chiarezza e poi parleremo delle tante altre cose su cui bisogna avere chiarezza grazie consigliere Bori l'assessore Coletto sì grazie presidente il decreto ministeriale del 2016 è stato integrato alla DPCM del 2019 pubblicato nella Gazzetta del 4 febbraio 2020 che approva il piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 il DPCM inoltre stabiliva che le regioni avessero 90 giorni di tempo per l'approvazione della programmazione regionale con scadenza 5 maggio successivamente prorogata con nota ministeriale a protocollo 31-39 del 16 aprile del 2020 come noto a tutti la pandemia ha colpito il mondo intero e si è sviluppata proprio nel periodo in questione creando evidenti problemi per lo svolgimento delle normali attività nella fattispecie soprattutto quelli inerenti l'iter di concertazione con le formazioni sociali e le organizzazioni sindacali nonostante le gravi difficoltà in data 27 maggio 2020 si è tenuto un primo confronto tecnico con le organizzazioni sociali per le persone con disabilità presenti sul territorio con organizzazioni sindacali, pensionati e lanci seguito da un ulteriore incontro tenuto sin data 29 maggio con la presenza del sottoscritto del direttore regionale dottor Claudio Dario esperita questa fase partecipativa nella seduta di giunta del 3 giugno con delibero a 444 è stato adottato il piano regionale integrato per un'autosufficienza prima e triennio 2019-2021 ai fini della successiva trasmissione all'assemblea legislativa ex articolo 326 del testo unico in materia di sanità e servizi sociali nello specifico fermo restando l'importanza della continuità con il passato la programmazione 2019-2021 pone più attenzione ai concetti fondamentali di autodeterminazione di libertà di scelta di progetto di vita richiamando anche il documento sul secondo programma di azioni in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in senso dell'articolo 3,5 legge 3 marzo 2009 numero 18 il programma di azioni infatti contiene obiettivi che amplificano il rispetto dell'autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone la non discriminazione la piena ed effettiva partecipazione di inclusione nella società il rispetto per le differenze e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa la parità di opportunità l'accessibilità il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità ciò detto c'è la massima disponibilità in sede di confronto sia nell'ambito della commissione sia nell'ambito del consiglio regionale per migliorare quello che è il testo che è stato proposto dall'aggiunta regionale grazie presidente replica consigliere Bori no reprico io ah scusi consigliere Paparenza sì ma è evidente assessore Coletto che le politiche sociali non sono nelle sue corde perché la risposta in questa risposta non solo non ha risposto all'interrogazione ma anche c'è l'assenza della politica vedi il concetto di vita indipendente rappresenta per le persone con disabilità la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le soli limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità e in questo caso non solo non c'è la commissione regionale di esperti non c'è la partecipazione che si può fare in tanti modi anche durante la pandemia ma soprattutto quello che ci preoccupa è che non è stato smentito l'utilizzo del criterio dell'Isee ai fini dell'attribuzione del fondo Prina senza spendere una parola in merito rispetto alla scelta di un intervento socio-sanitario integrato programmato sulle esigenze complesse di una persona con disabilità che può essere garantito solo con la centralità del progetto e solo con un budget di progetto non prendendo a riferimento altri parametri perché altrimenti andremo incontro a quello che diceva Bori a una vocerizzazione d'Ugur che prelude a una sorta di privatizzazione del sistema sociale una sorta diciamo di fine del concetto stesso di vita indipendente quindi siamo totalmente insoddisfatti da quanto detto anche per il fatto che non è chiarito se tutti i livelli integrandoli come leggendo le sue dichiarazioni integrando i livelli di disabilità grave, gravissima slama, rattie rare il budget rimane lo stesso degli anni precedenti è chiaro che diminuisce anche la possibilità di budget personali di progetto rispetto a quanto è il contenuto della nostra interrogazione grazie grazie